I soggetti possono ambire anche il titolo di migliore di razza, sono soggetti che vengono valutati per le caratteristiche di razza e per lo stato di forma di salute generale che manifestano nel momento della presentazione. Rimaniamo in Irlanda con il giudice di questo raggruppamento, accogliamo quindi con un applauso con Hassengs. Thank you very much for being here with us. Ed ecco quindi a voi il levriero russo, il cane da pastore scozzese a pelo lungo, il volpino italiano. Coppie e gruppi nel pre-ring, grazie. L'evriero russo, inutile sottolineare l'origine della razza perché il nome la rispecchia appieno. Coppie e gruppi nel pre-ring, grazie a tutti. Coppie e gruppi nel pre-ring, grazie a tutti. Ed è ora il turno del rough collie, ovvero il cane da pastore scozzese a pelo lungo. Coppie e gruppi nel pre-ring, grazie a tutti. Coppie e gruppi nel pre-ring, grazie a tutti. Coppie e gruppi nel pre-ring, grazie a tutti. L'applauso che sorge spontaneo per questa collie. Abbiamo visto prima il bianco fulvo, ora vediamo il tricolore, ovvero nero focato con pezzature bianche. Primo raggruppamento, cani da pastore bovari nel pre-ring, grazie a tutti. Ripreto, primo raggruppamento nel pre-ring, mentre il nostro giudice valuta il volpino italiano. Atenzione, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Volpino italiano al terzo posto. Al secondo posto, Borsoe, giro d'onore per il vincitore del titolo di miglior veterano della prima giornata espositiva dell'esposizione internazionale canina del gruppo cinofilo Comasco, il Ralph Colleen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.